buongiorno a tutti e bentrovati in questo video tutorial per la compilazione della domanda per il concorso a dirigente scolastico ricordiamo che questa istanza è già pronta per essere compilata nella piattaforma concorsi procedure selettive e sono 587 posti per il concorso ordinario andiamo a vedere come compilare la domanda scendiamo nell'home page del ministero dell'istruzione per andando a approfondimenti vedi tutti gli approfondimenti e da questa dagli argomenti servizi andate e cliccate su servizi online scegliendo la lettera p entreremo proprio nella piattaforma concorsi procedure selettive andando al servizio con l'utilizzo dello speed facciamo entra con speed nel mio caso utilizziamo le poste id e utilizziamo il qr che vedete l'identificativo qr che andiamo subito ad attivare per entrare nella domanda ecco che sia consente ad entrare è stata concessa l'operazione di entrata nella piattaforma fate a consento ed entrerete nella piattaforma di riferimento le istanze aperte sono già quelle dei concorsi precedenti concorsi a cattedra docenti ma si è aggiunta dal 19 12 2023 e fino alle 23 59 del 17 gennaio 2024 il la compilazione della domanda per il concorso ordinario per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica ripetiamo sono 587 posti facciamo su click su compila la domanda e quindi entriamo in una pagina dove c'è l'informativa per il trattamento dei dati personali scendendo fino in basso su questa pagina facciamo presa visione c'è un tasto verde di presa visione facendo presa visione noi siamo diciamo così abbiamo la domanda già pronta e inserita per scegliere la regione facendo avanti col tasto avanti alla destra del teleschermo facendo avanti entriamo nel nelle selezionare la regione vedremo che ci sono delle regioni in particolar modo la valle d'aosta il friuli venezia giulia il molise e la basilicata che non hanno posti per poter diciamo scegliere quella regione ai fini del concorso scegliamo per esempio la calabria facciamo la calabria si illumina di verde e dunque vedete la conferma delle scelte la calabria facendo ancora avanti entreremo in una pagina dove saranno inseriti i dati personali e già sono pre compilati nel caso non lo fossero si vanno a compilare e poi facendo nuovamente avanti si entrerà nella sezione compila le sezioni una volta entrati nella compila le sezioni abbiamo delle sezioni obbligatorie che sono evidenziate con un asterisco rosso e sono il titolo di servizio per l'accesso il titolo di studio per l'accesso e altre dichiarazioni andiamo innanzitutto a fare il titolo di servizio per l'accesso facendo questo già ci sono i dettagli dell'utente docente titolare ordinario dove di ruolo il comune di titolarità la classe di concorso e poi dettagli della prima nomina per esempio inseriamo come prima nomina il ruolo il primo anno di ruolo facciamo intorno al 2005 2006 dunque l'uno settembre 2005 e la decorrenza economica della prima nomina il ruolo se molto spesso è identica facciamo l'esempio del l'uno settembre 2005 ripetiamo anche per l'aspetto di carattere non solo giudico ma anche economico e la data della conferma prima nomina il ruolo perché c'è la decorrenza giuridica la data della decorrenza la data di conferma è l'anno immediatamente successivo dopo l'anno di prova e dunque si va a inserire il 2006 sempre 1 settembre ecco che così automaticamente vedrete che si parla dell'effettiva anzianità di servizio dopo la decorrenza economica prima nomina il ruolo qui si può dichiarare di aver avuto periodi interruttivi del computo dell'effettivo servizio di ruolo chi dovesse aver interrotto il ruolo per alcuni periodi ebbene che lo indichi poi ci sono i dettagli dei servizi prestati in caso di presenza di servizi non di ruolo e se non si raggiungono i cinque anni e dunque si devono aggiungere necessariamente servizi non di ruolo si deve fare con questo fatto qui con questa questo campo aggiungi dopodiché si può fare salva e la parte la prima parte obbligatoria viene automaticamente salvata poi si passa al titolo di studio di accesso per l'accesso che sappiamo essere possono essere varie varie tipologie nella fattispecie potrebbe essere una laurea vecchio ordinamento o una laurea nuovo ordinamento specialistica o una laurea nuovo ordinamento magistrale chiaramente ci sono anche i diplomi di conservatorio e altre situazioni che contemplano il titolo di accesso nel caso specifico va vecchio ordinamento titolo di studio laurea in matematica vedete c'è la laurea in matematica si clicca anno accademico 1992 1993 data del conseguimento il giugno 93 il luogo l'università degli studi di messina la votazione 110 su 110 la macchina con l'ode e poi facciamo dunque facendo salva abbiamo anche che il titolo di accesso è stato indicato poi ci sarebbero anche altri titoli valutabili titoli di preferenza e poi l'altro campo obbligatorio e inserire ricordiamo il versamento il versamento di avere effettuato il versamento e dunque si fa prima il versamento e poi si allega in questo scegli file nel frattempo si possono indicare la cittadinanza di essere cittadino italiano di godere dei diritti politici di essere scritto nelle liste elettorali del comune di nel caso mio reggio calabria di indicare anche l'idealità fisica per partecipazione al concorso di essere fisicamente idoneo di non avere condanne penali di non avere procedimenti penali in atto di non avere procedimenti amministrativi di non avere precedenti penali di nuovo a proprio carico di non essere mai testi stato destituito quali gli ausili aggiuntivi per chi ha complicanze e di invalidità di non trovarsi le condizioni previste l'articolo 497 dunque di forme di incompatibilità e qui il versamento il trattamento dei dati personali il versamento ricordiamo si deve dichiarare di averlo versato e poi si sceglie il file per poter inserire il inserire un file pdf fai apri ecco e poi salvi e anche questo dovrebbe essere andato a buon fine ricordiamo che per quanto riguarda il l'inserimento il pagamento si deve fare clic su questa e ci sarà l'emissione del bollettino che viene subito emesse sono 15 euro e poi si fa si effetto il pagamento online o attraverso la carta di credito attraverso un bonifico bancario speriamo che questo tutorial sia utile per la compilazione della domanda dei nostri telespettatori e auguriamo a tutti una buona presentazione di domanda per questo concorso dirigenti scolastici e quindi conseguentemente anche un buon concorso arrivederci e a presto